Sono Bebe Vio, faccio l'atleta, faccio la studentessa e mi occupo di un sacco di cose in generale, però è tutto molto bello. Dopo la malattia volevo tornare a fare scherma, però mi hanno detto che senza il braccio non potevo fare scherma. E quindi quello è stato un gran limite all'inizio, ma alla fine ci abbiamo creduto tanto e il mio papà e i ragazzi di 100 protesi mi hanno inventato una protesi apposta e quindi posso dire di essere l'unica al mondo che fa scherma senza il braccio. Senza confini significa senza limiti, significa che posso sfidare qualsiasi convenzione. In realtà mi mettono limiti davanti più o meno tutti i giorni, anche solo quando mi sveglio la mattina e ho le gambe gonfie, quindi non riesco a mettere la gamba, la protesi. Però alla fine prendi, alzi e parti, quindi di limiti ce ne mettono tanti, però la vera figata è superarli tutti. A me piace molto in realtà, lo ammetto, quando mi dicono che non posso fare qualcosa che è impossibile farlo, perché nel momento in cui è impossibile, allora vuol dire che devo farlo. Senza confini significa che non devo mai nascondermi o correggermi, significa che il fondotinta non è una maschera. Io ho accettato le mie cicatrici a tal punto da farmele piacere tanto e a tal punto che adesso piacciono anche agli altri. Tendevano a farmi sempre molto cerone in faccia per nasconderle in un certo senso. In realtà a me le cicatrici piacciono. Il mio fondotinta mi fa sentire a me stessa, senza limiti, senza filtri, senza confini. La mia nuance è 1R. Tutte noi valiamo, secondo me significa che possiamo vincere qualsiasi cosa se riusciamo veramente a farlo come squadra.